Porca puttana Allora io ci sono già rimasto sufficientemente di merda negli anni Perché non mi è mai arrivata la lettera da Hogwarts Ma almeno io passavo la mia infanzia con un bastoncino in mano A dire Wingardium Leviosa E a cercare di far gonfiare mia zia Voi invece avete passato il vostro tempo Sadici che non siete altro A taggarmi sotto questo video Per chiedermi Pietro questa volta è affidabile? Adesso se io seguo la lettera a quel tutorial lì Viene fuori questo Se voi non sentite la differenza tra quella schifezza lì e questo Allora avete un gravissimo problema alle orecchie 800-046-385 E il numero di Amplifon Non sto scherzando